Nuova intelligenza artificiale incredibile! Una tecnologia che vi permetterà di vedere come sarebbe un capo di abbigliamento su di voi senza nemmeno indossarlo. Caricate una vostra foto, selezionate una foto di un capo di abbigliamento e lasciate che l'intelligenza artificiale faccia tutto il resto, modificando la vostra foto per mostrarvi indossare quel capo. Questo potrebbe rivoluzionare il modo in cui acquistiamo i nostri vestiti. Andiamo a vedere il progetto. Vi ricordo che chi è abbonato al mio canale ogni mese riceve prompt o strumenti che non porto nei video. Allora, questo è il progetto, si chiama Outfit Anyone. Vi lascio tutti i link in descrizione. Ho tradotto la pagina, come potete vedere, diciamo che titola Vesti chiunque prova virtuale di altissima qualità per qualsiasi abbigliamento e qualsiasi persona. Qui ci mostra alcuni esempi. Qui c'è l'immagine di una persona, mentre qui c'è l'immagine di un capo di abbigliamento. Questo poi è il risultato. Quindi ci va a fondere l'immagine della modella o del modello che mettiamo con l'immagine del capo di abbigliamento. Andiamo a scoprire di più su questo progetto. Qui ci dice la prova virtuale è diventata una tecnologia trasformativa che consente agli utenti di sperimentare la moda senza dover mai provare fisicamente i vestiti. Tuttavia, i metodi esistenti spesso hanno difficoltà a generare risultati ad alta fedeltà e coerenti nei dettagli. I modelli di diffusione hanno dimostrato la loro capacità di generare immagini fotorealistiche e di alta qualità. Ma quando si tratta di scenari di generazione condizionale, come le prove virtuali, devono ancora affrontare sfide per ottenere controllo e coerenza. In effetti questo è vero, perché diciamo che siamo arrivati a un livello veramente alto, però abbiamo ancora delle barriere per quanto riguarda la coerenza delle immagini. E quindi utilizzare poi queste immagini nel nostro e-commerce oppure nel nostro negozio fisico diventa un pochino complesso perché non ci riesce a dare poi un risultato coerente. Outfit Theory One affronta queste limitazioni sfruttando un modello di diffusione condizionale a due flussi che consente di gestire abilmente la deformazione dell'indumento per risultati più realistici. Qui dice che riesce a gestire abilmente la deformazione dell'indumento, praticamente ci sta dicendo che riesce a fondere l'immagine del modello perfettamente con l'immagine dell'indumento. Allora dopo andiamo a vedere alcuni esempi. Qui ci fa vedere il metodo, quindi tutto il processo per arrivare poi all'immagine finale. Andiamo a vedere alcuni risultati. Qui vediamo un bappé con la maglia del Paris Saint Germain e qui a fianco vediamo delle immagini di alcune magliette, dei capi di abbigliamento. Ragazzi come vedete questo poi sarà il risultato finale. La cosa incredibile se voi notate ad esempio quando fa vedere la maglietta nera, la manica ad esempio di Mbappé, questa del Paris Saint Germain, gli arriva qui. Vedete? Mentre se andiamo a vedere la maglia nera, gli arriva qui. Quindi quasi nella piegatura del braccio. Ragazzi e questo poi va a richiamare quello che abbiamo letto prima, quello che abbiamo letto qua. Quindi riesce a gestire abilmente la deformazione dell'indumento. In questo caso questo è un esempio di deformazione dell'indumento perché lui non è che va a ricopiare diciamo questo capo di abbigliamento su quest'altro capo qui. Assolutamente no. Come vedete qui non è coperto questo pezzo di braccio mentre qui sì. Quindi questa è una cosa incredibile. Allora qua abbiamo un altro esempio da pantalone giubbino oppure camicia, pantalone, felpa e pantalone. Come vedete questo è il risultato. Qui invece c'è la moda bizzarra. Ci mostra la capacità di gestire un'ampia gamma di stili di abbigliamento eccentrici e unici, di vestirli sulle modelle e persino di creare combinazioni di outfit corrispondenti quando necessario. Ecco questi sono alcuni degli esempi molto interessanti. Guardate questo qua. Siamo davanti a un modello veramente pazzesco. Ragazzi guardate qui questo vestito viene indossato perfettamente poi sulla modella. Ragazzi è qualcosa di incredibile. Un'altra cosa molto interessante è questa qua. Varie forme del corpo. Qui ci dice praticamente che il modello riesce ad adattarsi a qualsiasi tipo di corporatura. In forma, curvi, addirittura corporature più piccole. In questo caso ci fa l'esempio di questo vestito che può essere non lo so una taglia M e ci fa vedere questa modella che indossa perfettamente questo vestito. Poi ci fa vedere questa seconda immagine di quest'altra modella che viene indossato anche da lei in modo perfetto. Infine ci fa vedere l'immagine di questa bambina che indossa lo stesso vestito quindi sicuramente con una taglia molto più piccola. Questa è un'altra cosa incredibile perché in questo modo pensate all'applicazione di questa tecnologia su un sito e-commerce voi caricate la vostra immagine, inserite l'indumento e voilà. Ecco qui abbiamo altri esempi. Come vedete le tre modelle sono sempre le stesse. Qui ci mostra la capacità di questo modello che può supportare la creazione di nuovi personaggi di animazione. Qui invece c'è il refiner. Ti mostra l'effetto prima e dopo la generazione praticamente. Questa è prima quindi l'originale e questa è quella dopo. Come potete vedere ragazzi qui su alcuni punti si può notare proprio il cambiamento. Magari ci sono delle pieghe in più vedete? Qui invece ci mostra anche questo vesti chiunque e anima chiunque. Un modello di posa in un video all'avanguardia per ottenere cambi di outfit e generazioni di video in movimento per qualsiasi personaggio. Allora ragazzi poi torniamo sugli esempi andiamo a vedere andiamo a fare un nostro esempio. Io mi collego un attimo con un altro progetto che sarebbe questo qui. Questo è sempre un loro progetto perché lo menzionano anche dall'altra parte. In questo caso è animare chiunque. Ve lo mostro velocemente. Abbiamo la nostra immagine. Mettiamo il caso che l'abbiamo creata con l'altro strumento. Modifichiamo la posa e quindi ci va a creare praticamente un videoclip, una sequenza video. Vedete? Torniamo di nuovo sul progetto di prima. Vedete? Questo è quello che ci dice. Ci dice qui con questo progetto più il progetto di animali chiunque. Puoi prendere l'immagine del modello. Puoi prendere l'immagine dell'indumento. Qui ci va a mettere l'indumento sul soggetto, sul modello. Qui invece ci va ad animare poi questo risultato. Ecco qua c'è questa ragazza. Gli vogliamo far indossare questo vestito. Quindi questo è il risultato. E poi l'animiamo. Fantastico. Andiamo a fare un esempio. Andiamo a vedere come funziona. Andiamo qui. Entriamo in questa pagina e cliccate su questo link. Ok ragazzi vi ritrovate in questa nuova pagina. Cosa importante per adesso non ci fa modificare la modella. Quindi non possiamo sostituire questa modella ma possiamo utilizzare ad esempio questa. Questa qui. Questa qui. E questo modello qua. Perché questa è solamente una demo. Quando verrà rilasciato questo modello sicuramente ci farà fare di tutto. Però possiamo inserire qualsiasi tipo di abbigliamento noi vogliamo. Per prima cosa carichiamo un'immagine di esempio che ci danno loro. E poi andremo a caricare delle nostre immagini. Quindi scegliamo questa qui e scegliamo il jeans. Ok. Clicchiamo su run. Aspettiamo pochi secondi. È veramente perfetta. Però chiaramente questi sono dei loro esempi. Quindi magari già sono stati addestrati su questi tipi di immagini. Quindi andiamo a caricare delle nostre immagini. Questa è un'immagine che ho creato in un altro video. Qui sotto ci mettiamo sempre il solito jeans. E vediamo che cosa succede. Molto interessante ragazzi. Vedete che calza proprio a perfezione. Qui praticamente l'ha lasciata nel jeans. Quindi veramente incredibile. Molto ma molto bella. Proviamo a vedere però sul ragazzo come ci sta. Quindi mettiamo il ragazzo. Lasciamo sempre questo indumento e clicchiamo su run. Ecco in questo caso come vedete l'ha lasciata cadere. Non come la ragazza. Però sto notando questo facendoci caso che l'immagine qui nel disegno cambia un pochino. Perché qui come vedete l'occhio cambia. Qui è un po' più chiara. Considerate che questa è solamente una demo. È veramente assurda. Andiamo a provare con un altro indumento. In questo caso ho fatto uno screenshot di un abito trovato online. Inserisco una modella e clicchiamo su run. Vedete che in questo caso è perfetto. Non cambia assolutamente nulla. Riesce a riprodurre e affondere l'immagine del nostro abito con l'immagine della modella. Facciamo un ultimo esempio. Selezioniamo quest'altra modella e vado a caricare questa felpa. Sotto in questo caso prendo un loro esempio e clicchiamo su run. Ci ha dato un piccolissimo errore nella generazione della B. Quindi abbiamo constatato anche questo. Deve ancora migliorare su indumenti che mostrano delle scritte. Ragazzi però nel complesso è veramente un modello incredibile perché la fusione tra l'immagine del capo e l'immagine della modello del modello è veramente perfetta. In tutte le sue sfaccettature il risultato è veramente incredibile. Ok ragazzi una piccola precisazione. Non sono solo queste quattro immagini di riferimento ma qui abbiamo ben quattro pagine. Come potete vedere ci sono altri modelli di riferimento. Quindi ragazzi appena ci saranno delle novità per quanto riguarda l'uscita di questo modello al 100% delle sue funzionalità. Quindi anche magari cambiare l'immagine del modello o della modella ve lo farò sapere qui sul canale. Mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo strumento. Se ti è piaciuto il video ti invito ad iscriverti al canale e lasciarmi un like. Attiva la campanellina per restare sempre aggiornato. Per questo video è tutto ci vediamo alla prossima. Ciao!